ecco l'ora il buongiorno e che buongiorno si vede a San Martino ricordate connessione deboli ah quello si è anche bello stuzzicato stuzzicato è venuto da Roma è venuto da Roma stamattina ha preso la prima nave è arrivato col buono così la voce fuori campo mi fa vedere tutto facli vedere il peccettino Regini ti attacchiano alle spalle guardate un po' stamattina si è pettinato con Raudi anche lui si diceva pure che poi si schiavotto vedi quando si muove Giuliani si mangia si mangia si muove il gusto il bio si mangia bene ci indica bene ricordiamo le mappe del gusto questo percorso culinario biologico tutto attraverso la nostra con la nostra camera 4 abbiamo 5 telecamere avviciniamo sta inquadrando bene ha fatto un bel carrello eh certo buongiorno a tutti che state scrivendo entrando facciamo qualche silenzio ogni tanto usciamo andiamo sul territorio andiamo andate su un campo ora dal campo si passa alla cucina a cucina, ristorante quindi che iniziativa c'è? venerdì sera venerdì sera a Rio a Rio a Elba c'è una cena la prima cena che facciamo della serie punto doveva prendere il gusto da cipolla da cipolla storico ristorante da cipolla cucina cucina albana un po' anche a sorpresa perché ha detto Davide che ci abbiamo dei tagliolini in maschera ecco che non si sa fammi la maschera da piccino non lo facevi così no la cucina di sera quando l'avete visto che maschere di merda ti mettevano la bimbaltina? ora va così ma quella è di bala eh la mia la mia la non segna eh chi segna? di bala ora sta ora sta ora mi ha tutto taglio io vabbè vabbè nel frattempo ricordiamo Giovanna Massimo e Luca buongiorno ah si? l'avrei mai detto allora noi ci abbiamo questa cena con prodotti tipici dell'erba ricetta piatti tradizionali che per andare nel storio ristorante di Rio da Cipolla e con i vini Montefabriello quindi abbinamento vini Montefabriello cucina da Cipolla venerdì sera venerdì sera alle 8 bisogna prenotarsi perché c'è 30 posti al massimo poi ricentrano non c'è presi 15 appunto 16 16 quindi non bisogna subito organizzare bene questa cosa tipo Asta dicono 20 e niente e così si inaugura questa serie di scene autunnali invernali legate a questa iniziativa che fa perché poi parliamoci di caro quando l'estate c'è sempre confusione vedi in po' in po' e si ora questa volta accogliamoci un po' la nostra ristorazione in maniera più tranquilla prezzi accessibili perché sono concordati un'agorà culinaria un'agorà culinaria meraviglia ci sono già fame è già venuta a fame no io no io ho proprio colazione però lo diciamo al minuto no no il menù allora la caffè se ne piglia? c'è per l'amor di Dio non lo turbate la polpo col cavolo nero poi questi tagliolini tagliolini in maschera in maschera che c'è da roba di fisico e poi che fa? baccalà? no baccalà? hai messo in difficoltà sto mostro che ho bravo c'ho scritto c'ho il telefonino no c'ho anche io ho scritto e qua lo dolce di patate con le patate quindi ragazzi venite 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 per l'altro notate notate venite c'è 30 posti vedi proprio sopra c'è un posto chiama chiama magari ti dice chiamare fissare non ti dovrebbe dire il numero ma io ammetto le mappe del gusto con la telecamera noi inquadriamo le mappe del gusto uno è qui allora mentre lui cerca bravissimo manca la voce fuori campo stavolini si sente silenzio anche ieri allora è finita la borsa del polpo finita la borsa del polpo e quindi non ci danno bisogno no no dicono bella fare bisogna trovare un regista che ci porti perché bisogna puntare sullo sport però cosa succede l'erba punta sullo sport ma per ora ci investe poco se può puntare su una cosa a rotalo no a rotalo punta poche risorse stanziate dagli altri comuni in bagno dice solo portoferraio ci punta ma io dico ahi i regini dice i regini risponde la mosse il direttore risponde dice portoferraio ci punta però la legge in capo è capo il triatlon è su quell'altro versante ma comunque ora c'è ah giustamente bravo regini sei un bimbo intelligente che bellezza parlare di mangiare a quest'ora è vero Silvia Roteca se per noi non c'è orario perché quando accendi la griglia non è mai orario come diceva la gente i chili l'amori e l'anni non si contano buongiorno buongiorno bianca ha detto anche la mia mamma volevo dire allora c'è la Cori Umberto c'è la Cori Umberto e la Conquistatore la Conquistatore e il 27 ottobre 27 ottobre 27 ottobre 27 ottobre c'è la Street Work Street Work la gara il Giro delle Rotonde quella che veramente giri il Giro delle Rotonde si ha permesso in questo giorno di Letizia e Fausta Gioia augurare un buon compreanno alla nostra amica Belinda Bianco tu finisci gli anni guarda ci vediamo un altro pezzo da domani guarda come stai andando? è chiusa questo rato nemmeno lì ci ci trovi levano anche le talga a questo rato vieni con noi ti prendi un caffè la scritta comune attacca 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 caffè è una parola grossa perché ancora non ce l'hai visto il caffè almeno la vedi dal diretto la viva vibrante Bella Belinda l'ha festeggiata però si parla di sport bella Belinda l'ha festeggiata bella affeccionato uno più uno c'è anche il fine scemo più scemo l'hai trovato sto numero fermi buoni buoni l'uno di cipolla l'uno di cipolla ci hai messo l'occhiale eh sì se no ci vedo 0565 e sovraimpressione 943068 fa la sovraimpressione e sovraimpressione ci ci metti così lo vedo al contrario ci sono messaggi lo vedo al contrario poi ci sono messaggi no senti pezzi no ci siamo male no se non fessi pure qui anche questo anche questa l'avete fatto un investimento è questa sì noi sì ciao ma riprendi riprendi un concetto nel turismo sportivo infatti nel frattempo noi abbiamo fatto anzi stissi l'anno va sottolineato sottolineiamo quei sottotitoli che ho fatto io anche in inglese o tedesco alla pagina ha fatto musa pollero stavo guardando vediamo che ha detto Stixi che ha fatto Stixi tra l'altro ha fatto l'intervista a Gaetano Dauria o Dauria lui? sì che riguarda la nazionale il pane nazionale di casa ma se per me io la fa prezionare un'assemblea per passare fatti sto organizzando quindi un'assemblea Gaetano quando l'appuntamento è fissato per il 16 ottobre dalle 17 alle 18 e 30 nell'aula Magna sempre a Magna noi del forese di Portofraio in salita Napoleone all'ordine del giorno la nascita della nuova associazione pertanto i soci partecipanti saranno i soci fondatori quindi chiunque interessato mi raccomando andate perché è una cosa Michela buongiorno nel frattempo ricordiamo chi non lo sapesse che stranamente stranamente non fa mai nulla di queste cose ma il vice presidente della nostra nazionale è un volto nuovo del calcio finalmente gente nuova Nedo Adami anche quella si imbarca si imbarca anche quella povero ma poi non è lo cazzo ci si infilano e poi è venuto ieri e mi ha detto eeeh non c'è nessuno non c'ha voglia nessuno lasciate stare che ci dobbiamo andare lasciate la stare lo sapevo dove c'è un buco ci si infila e poi e sai che è spavato ieri dice mira che io sono il vice presidente e quando mai non sei il vice presidente qui diamo allora diamo benvenuto al presidente della nazionale del Pana del giovane è da Adami quindi no eeeh perché c'è ma lo fa a parlare c'è questa altra associazione che è la CONIFA capito? che è apposto di l'ancherio ma perché io uso ma novi un pochettino tra le nazionali non allineate perché è tra CON e FIFA tra le nazionali non allineate con FIFA eh qui mi sa sta adesso c'è la CONFICA quindi vediamo però com'era il regolamento perché no vabbè lo sentite nell'intervista è andato eh lettele con carattere cubitali fai tu capisci perché c'è di acqua finito il giornale a dire lettele con carattere di tutti tali oh lì siamo fatti di dare una pace beh la prima pace nel Tireano ci dice che noi ci forniamo d'artistiano quindi nel frattempo che culo nel frattempo messaggio promozionale sempre molto subitato potenti peggio non è proprio è proprio diretto questo è proprio spalesi sai quelli quindi ricordiamo da Cipolla venerdì anche ora verso la Cipolla mi raccomando non fate tardi perché poi uno fa ma poi scoccio la cosa ma non so perché non ti vede più non ti vede più hai pagato la buona sì 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 no per le polconifari siamo bloccati i mezzi grandi mezzi di là hai tirato fuori sta parola avevo detto nè da dame vicepresidente del Tireano non mi ha fatto non mi ha fatto non mi ha fatto il bottaggio eh è tornato? no ce l'ho andata la Cipolla niente niente ma se fosse vedere qualche notizia dai nel frattempo ricordiamo che la Juventus ha battuto due ura oh madonna sa ma sta storia quanto beh le possiamo perdere tutte ma se adunassimo la fine che l'hanno perso e lui era di che hanno vinto due ura ma non si go è uguale è uguale ora abbiamo vinto ora 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 lo dice che è uguale n'abbiamo vinto oh ho perso il Tireano scatica più quest'anno lo potete anche lasciare qualcun altro certo non voglio mica liare l'Inte ma c'è Napoli c'è data Napoli ma che devono fare se a dicembre sono tutti a 50 punti si schiantano ma si comprate tutto ora e sono finiti a Roma sono finiti fra i crociati i zigomi ieri ho visto il zigoma c'aveva un buco qui c'è una micro frattura c'aveva un buco andate un po' di infermeria c'è un buco tanto bisogna parlare bisogna tornare a giornare carcace perché tanto va eccolo quando lo tocca lui oh fermo ora devo andare cercando l'osco da qualche parte l'oroscopo inventamocelo ma allora c'è la biancotta finisce l'anno cazzo oggi non lo fanno siamo arrivati ma notizia è più importante ricordate diventa l'unica notizia ma no che notizia sta cenando a cipolla dalle 20 in poi mi raccomando 35 euro degustazione di Montefrappello tutto compreso 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 anche noi ci siamo ci siamo anche noi a fare una girata rivelba scelta la ringhiera ragazzi ragazzi ma no non ho pensato voi si è lo scherzo ma guarda ecco tutto sport la gioia è tornata poi gazzetta dello sport il diavolo veste pioli gli sei bloccato poi no ma non va a Genova spalletti a Mila gentile la Juventus non ha ancora vinto ma zitta un po' prestava un po' prestava un po' prestava un po' è tornata la ringhiera ma stavo parlando sportivo la ringhiera e i ragazzi coinvolti i due finiscono ospedali per tramuni portati a seguito della caduta ma dove? ma arriveremo si è ruotata la ringhiera il barco caio per vedere ma che sono abbastanza senti là è parecchio carino Canovaro ma Corsini per caso hai inventato anche la schiacciabriaca la schiacciabriaca questo è il commento ficcante ficcante vedi la parola dei ragazzi tutto lui sa della serie e arrivo sa come ti dicono così ma hai inventato anche la schiacciabriaca è bello l'inpo perché c'è l'inpo che è chiuso capito quindi siamo su il bar record si quindi ragazzi ci abbiamo c'è una sereno buongiorno anche a te della viabilità sulla SP25 Pomonte e Marciana questi lì sono anche qui e là ci sono le castagne in terra ci sono le castagne ci sono le castagne sono i ricci di castagne in versione povera in versione povera c'è un uso di notizie ah no però c'era allora forse era dopo della ringhiera vedi c'era qui sotto i veri però va bene ragazzi abbiamo inaugurazione della nuova ambulanza mi cerchi l'oroscopo per piacere l'oroscopo perché c'è anche il bar report non fa l'oroscopo perché c'è anche Masha che sta salutando e sta aspettando oroscopo oroscopo di domani lo leggiamo di domani oroscopo Paolo Fox cazzo mettiti un po' il posto di regini che sei la ragazza aspetta 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 io mi la vediamo questa è di un'ora fa ciao ciao pesci, scorpione, capricorno toro Walter ciao grazie di essere venuto fatecelo far pure a noi allora rosco vi palo Fox torna protagonista sull'emittente la riete sta affrontando una giornata molto interessante in un periodo di lotte dove spesso si riescono a ottenere risultati importanti attenzione al toro che si trova di pronto a un momento gelia vestito eccolo qui se ne sei andato tra una particciolina eh, se te ne sei andato è ripartito il cellulare hai capito? allora intanto facciamo un appello noi è ripartito il cellulare se te la sera a Porta Azzurro c'è un boiume un boiume disumano che vuol dire un boiume? c'è tutti i lampioni spenti bocchetto reali ce ne sono pochi accendiamo un po' di luci ma bisogna risparmiare ma bisogna che venne il cazzo ieri pensavo che era la macchina ma dove cazzo vai? sta a tenere il culo a casa così non accendi no? bisogna risparmiare cosa esci fuori a buio? alle 10 tutti a casa anzi alle 9 tutti a letto oh giù scorpione lui esce alle 9 con il boiume andiamo scorpione nel lavoro decidete freddamente cosa è meglio per voi decidete di conseguenza per essere amati non dovete frenare i vostri sentimenti mascia mascia e orso mascia e orso mascia e orso nel frattempo i pesci che è il marito muovetevi con prudenza per preparare un grande rilancio dei vostri affari difficili rapporti con il sagittario ma il sagittario in amore siate generosi e il sagittario questo sagittario qui non è un tour il sagittario mi guarda poco ma si attenta a fare il sagittario c'è anche il sagittario leone 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 aspetta madonna sembro fox leone cercate di essere tutto sotto controllo la situazione cercate sempre di tenere tutto sotto controllo nel lavoro potrebbe presentarsi delle occasioni tentennamenti in amore tesoro mio amore dolce moglie abbiamo dei tentennamenti in amore acquario per i nati dal al ragazze dal 21 gennaio al 19 febbraio il mio figliolo che ci cascò il mio figliolo dell'acquario è fondamentale cara Donora non perdere il controllo della situazione nel lavoro quando c'è un'emergenza un amore misterioso ed integrante bussa la vostra porta c'è una bocca stasera è un'ora si tromba anche Duardo anche Duardo prego e poi ce ne andiamo cosa abbiamo vai allora Bolzano 11-22 Trieste 14-18 Venezia 13-19 Milano Pioli Torino 11-20 Genua di Francesco se ne andà Bologna 12-18 arrivederci domandiamo con la radio perché c'è la canzone che ti piace ora continuiamo fine che c'è la canzone